Nominato dall'esecutivo Frattura, con soli tre voti favorevoli, il nuovo direttore generale dell'ASREM. Si tratta dell'avvocato bolognese Mauro Pirazzoli, già direttore amministrativo del Policlinico di Tor Vergata. Cresce il fronte contro la realizzazione delle centrali a biomassa nell'area del Matese. Dopo il presidio di due giorni fa nel cantiere di Campochiaro, oggi la manifestazione di protesta a Boianu. Un vero successo per l'evento zero dell'amministrazione Battista. Sport, musica, cultura, enogastronomia, gli ingredienti di Vivi la tua città. Non ci fermeremo qui, ha precisato l'assessore al commercio, Salvatore Colagiovanni. Ben trovati con l'informazione di Molise TV. Dopo il rifiuto dell'incarico da parte del Lombardo del Messier, è stato nominato dall'esecutivo Frattura, con soli tre voti favorevoli, il nuovo direttore generale dell'ASREM. Si tratta dell'avvocato bolognese Mauro Pirazzoli, già direttore amministrativo del Policlinico di Tor Vergata. Sentiamo. Ha rinunciato all'incarico di direttore generale dell'ASREM il Lombardo Stefano del Messier, ma l'aggiunta Frattura non ha tardato a scegliere il successore di Gaetano Fuiano. A guidare l'azienda sanitaria regionale per i prossimi tre anni sarà l'avvocato Mauro Pirazzoli, bolognese di nascita ma romano di adozione. Il nuovo DG, infatti, classe 1953, ha rivestito il ruolo di direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico di Tor Vergata per diversi anni. Una scelta non facile per l'aggiunta regionale è passata con soli tre voti favorevoli, oltre a quello del governatore Frattura a scegliere Pirazzoli e anche Nagne e Facciolla, un nome che non ha visto l'appoggio degli assessori Petraroi e Scarabeo. I due esponenti del PD hanno deciso, infatti, di non partecipare al voto. Il nome di Pirazzoli campeggia sulla cronaca nazionale per la vicenda che ha coinvolto l'ex presidente della regione Lazio, Piero Marrazzo, finito in tribunale per la vicenda di presunti stipendi gonfiati e largiti a dirigenti del Policlinico di Tor Vergata nel 2008. All'epoca dei fatti, l'ex governatore rivestiva proprio il ruolo di presidente della Fondazione Policlinico Tor Vergata. Tra gli imputati e accusati di abuso d'ufficio, anche i tre dirigenti, Enrico Bollero, direttore generale, Isabella Mastrobuono, direttore sanitario, e quello amministrativo Mauro Pirazzoli, neoacquisto molisano. La direzione della struttura ospedaliera, secondo l'accusa, avrebbe violato i tetti massimi retributivi, elargendo stipendi d'oro e premi maggiorati ben oltre il limite stabilito dalla legge grazie alla complicità del rettore dell'epoca e di Marrazzo. Il processo per abuso d'ufficio si concluse nel novembre del 2013 con l'assoluzione di Pirazzoli e la condanna a un anno e sei mesi di reclusione per l'allora direttore generale Bollero. Dovrà necessariamente dire addio alle cifre da capogiro il nuovo direttore generale dell'ASREM, a cui toccherà condurre il Molise nel difficile e tortuoso percorso di rientro dal deficit della sanità. Ed ora alla cronaca continuano le operazioni della Polizia di Stato finalizzate a combattere lo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Termoli hanno scoperto nella periferia della cittadina adriatica un terreno con un impianto di coltivazione di marijuana e arrestato il proprietario del casolare usato come raffineria per la produzione di stupefacenti. oltre a tutta l'attrezzatura necessaria per la semina, l'irrigazione, l'essiccazione e il taglio per il confezionamento delle dosi, gli agenti hanno trovato decine di piante di marijuana di ogni dimensione, nonché foglie già essiccate, per un peso di circa 3 kg pronte per lo spaccio. E cresce il fronte contro la realizzazione delle centrali a biomassa nell'area del Matese, dopo il presidio di due giorni fa nel cantiere di Campochiaro, oggi la manifestazione di protesta a Boiano. Vediamo. Continua la mobilitazione di cittadini, amministratori e associazioni ambientaliste per dire no alla realizzazione delle centrali a biomassa nell'area del Matese. Il fronte di opposizione agli impianti aumenta di giorno in giorno. Due giorni fa la protesta al cantiere di Campochiaro, dove le rusperano entrate in azione per i lavori alla centrale. Oggi la protesta a Boiano. Il dissenso giunge da più parti. Il segretario della CGL Molise, Sandro Del Fattore, pone un interrogativo. Perché il Consiglio regionale non dice nulla rispetto all'avvio dei lavori per la costruzione degli impianti? Eppure aveva votato all'unanimità un ordine del giorno che sottoponeva a verifica la possibilità di evitare le costruzioni. Ha concluso così il numero uno della CGL. A tenere alta l'attenzione sul problema anche Monsignor Bregantini, che ha chiesto di fermare subito i lavori, iniziati con molta superficialità e troppa fretta. Il prelato ha inoltre messo in guardia sulle possibili infiltrazioni malavitose, visti i continui cambi di proprietà delle aziende che hanno in capo i detti impianti. Sul tema si è soffermato anche il senatore di nuovo centrodestra Ulisse Di Giacomo, che ha annunciato. Sto preparando un'interrogazione parlamentare urgente al ministro dell'Ambiente, che presenterò la prossima settimana. Nonostante il voto unanime del Consiglio regionale sull'annullamento delle autorizzazioni e alla costruzione delle centrali, la popolazione resta vigile sulla questione. La centrale non si farà, hanno tonato i manifestanti, non più disposti ad accettare imposizioni calate dall'alto. E sull'argomento si è espresso anche l'assessore regionale Michele Petraroia. Sulla questione sussistono gli estremi per un'istruttoria in sede di prefettura, attesa a salvaguardare la volontà dei cittadini e delle istituzioni comunali, provinciali e regionale. C'è una parte di Molise che da dieci anni si è mobilitata contro impianti impattanti, scontrandosi con la protervia di tante imprese e con una normativa nazionale da cassare con urgenza. Oggi c'è la possibilità di ampliare le alleanze e unire le forze per tutelare il Matese ed il Molise. Facciamolo insieme, senza dividerci. Questo è l'invito di Petraroia. Il Molise, così come le altre regioni italiane, continua a sprecare e a non cogliere un'occasione fondamentale per l'economia del territorio. Parliamo dei fondi europei. Su iniziativa del consigliere delegato alla programmazione, Vincenzo Cotugno, in soccorso delle imprese arriverà lo sportello Europa. Sentiamo. L'Italia si conferma fanalino di coda per l'impiego delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea. Più della metà dei soldi rischia dunque di evaporare. Un'opportunità sprecata anche dal Molise che si distingue per la sua tutt'altro che lusinghiera incapacità nello spendere i fondi comunitari. Con l'obiettivo di ovviare al problema è stata sottoscritta una convenzione con l'Agenzia Apre per l'apertura dello sportello Europa e l'avvio di una nuova stagione in termini di accessi alle imprese molisane e finanziamenti diretti della Commissione Europea. Io credo che questa regione abbia una grande opportunità che è quella europea. Le nostre piccole realtà da sole non ce la farebbero mai così come purtroppo fino ad oggi pochissimi hanno avuto l'opportunità di accedere a questi finanziamenti. Noi vogliamo fare in modo che tutti abbiano questa possibilità e attraverso questo sportello Europa noi li vogliamo accompagnare con un tutoraggio che comincia dall'inizio, dall'idea fino all'erogazione dei fondi e a come poi gli stessi verranno spesi. La prossima riunione operativa con tutte le associazioni imprenditoriali, l'università, i sindacati e gli enti pubblici è prevista per il prossimo 3 ottobre nella sala del parlamentino di Via Genova con l'obiettivo di attivare un percorso virtuoso che porterà la regione ad avere una percentuale di accessi e finanziamenti diretti molto più alte del passato. Dobbiamo proprio cambiare passo, noi ci proveremo, ci stiamo provando il 3 di ottobre faremo definitivamente il lancio di questo sportello dove andremo a dettagliare quello che possiamo offrire di nuovo e di meglio a questa regione ma soprattutto al mondo imprenditoriale. Circa 2000 studenti delle scuole di ogni ordine e grado, centinaia di famiglie, ragazze e curiosi sono questi numeri della notte dei ricercatori che si è tenuto al parco tecnologico dell'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed. L'evento è stato il primo organizzato nella regione Molise in collaborazione con la fondazione Neuromed e con il patrocinio del Ministero della Salute del Parlamento Europeo della regione Molise e della provincia di Isernia e del comune di Pozzilli. Una celebrazione dei ricercatori e della ricerca partita all'insegna del coinvolgimento, della curiosità e della scoperta della scienza in tutti i suoi aspetti. E cambiamo argomento, un vero e proprio successo per l'evento zero dell'amministrazione battista, sport, musica, cultura e nuogastronomia sono gli ingredienti di Vivi la tua città. Non ci fermeremo qui, ha precisato l'assessore al commercio Salvatore Colagiovanni, soddisfatto della macchina organizzativa. Sentiamo. I Campobassani hanno colto l'invito dell'amministrazione comunale e hanno vissuto la propria città per un'intera giornata tra sport, cultura, musica e arte. Un evento a costo zero per le casse di Palazzo San Giorgio che ha potuto contare su un'ottima sinergia tra le associazioni di commercianti. Particolarmente soddisfatto l'assessore al commercio Salvatore Colagiovanni. Ottima risposta ma ottima anche l'organizzazione. Va dato merito che le strutture comunali, che molte volte vanno anche fuori fase, questa volta sono riuscite a sinergicamente parlare tra di loro. Abbiamo avuto un ottimo responsabile, il direttore artistico dell'evento, Max Manocchio, che è costato zero la città di Campobasso. Sport, cultura, artisti locali, professionalità che dirigono i lavori insieme al comando di Vigilubani, insieme ai lavori pubblici, alla cultura con Emma de Capo siamo riusciti a improntare questa serata. Grande l'attenzione rivolta ai bambini grazie a giochi sportivi organizzati dalle società operanti sul territorio. Corso Vittorio Emanuele ha ospitato piccoli campi da rugby, basket, tennis per un intero pomeriggio. E poi concerti, spettacoli teatrali, musei aperti fino a tardi. Vivi la tua città, ha definito l'evento numero zero dell'amministrazione Battista, trascinato per le strade del capoluogo migliaia di persone, nonostante il clima non particolarmente mite. L'assessore al commercio ha poi sottolineato come le iniziative per rivitalizzare la città non si fermeranno qui. Battista dice che questa amministrazione è numero zero, ha ragione, numero zero, ma tante altre a numero zero, metaforicamente parlando, arriveranno per la città, partendo anche da un ente fiera che fa parte della mia delega, che per anni è stato sepolto e dovremmo rispolverarlo con Molise in fiera. Non sono promesse, il programma ormai a breve verrà portato in aula e deve essere fatto. Dunque, un plauso al Comune e alla macchina organizzativa, che hanno saputo cogliere il desiderio della cittadinanza di vivere a pieno i propri spazi urbani. Parliamo ora dello zuccherificio del Molise, perché si terrà domani, 29 settembre, l'incontro convocato dall'assessore regionale all'agricoltura Vittorino Facciolla sul futuro dello stabilimento di Termoli. I lavoratori si dicono fortemente preoccupati dello stallo venutosi a creare in seguito alle dimissioni per motivi personali dell'amministratore unico Francesco Fusco e della squadra dirigenziale. Noi lavoratori stabili dello zuccherificio del Molise, che già in passato abbiamo subito un taglio di personale di salario proprio in nome di una continuità produttiva. Insieme ai lavoratori avventizi e stagionali delle dette esterne, fornitori e viticoltori, abbiamo dimostrato di sapere e soprattutto di voler continuare a fare zucchero, hanno commentato. E si è tenuto a Termoli Corea, il comitato che lotta contro la corruzione in Molise e che è presieduto da Vincenzo Musacchio, un incontro, quello in Basso Molise, in cui è stato tracciato il bilancio dei primi due anni di attività dell'organizzazione. Vediamo. Sta per festeggiare il proprio compleanno la Commissione Anticorruzione presieduta dal professor Vincenzo Musacchio e proprio per questa occasione si è riunita a Termoli per tracciare un bilancio di questi due anni di attività dalla propria nascita. Senz'altro positivo, ricordo che tra due giorni festeggiamo proprio il biennio di vita della Commissione Regionale Anticorruzione con risultati sicuramente accettabili tra i quali io voglio ricordare il nostro progetto sulle strategie di lotta alla corruzione che ha avuto riconoscimenti fuori dall'Italia e voglio rimarcare il fatto che questo progetto diventerà un provvedimento legislativo da parte del governo spagnolo con una ricerca già finanziata. Io mi recherò a novembre a Siviglia come coordinatore insieme all'altra professoressa che si occupa sempre della ricerca e a gennaio inizieranno i lavori che dureranno tre anni e che termineranno proprio con questo progetto governativo. Il modello di associazionismo lanciato da Corea ha ricevuto diversi apprezzamenti da altri paesi dove effettivamente la lotta alla corruzione è vista di buon occhio. Sicuramente da esportazione, riconoscimenti a livello locale purtroppo non li abbiamo avuti ma non ce ne ramarichiamo, andiamo avanti lo stesso. Abbiamo proposto il progetto alla regione Molise più di un anno fa però non abbiamo avuto risposta. Un mese fa l'abbiamo proposto al governo italiano, attendiamo risposte. Comunque se non ci dovessero essere non ci preoccupiamo più di tanto perché i riconoscimenti sono venuti anche dagli Stati Uniti d'America e in ultimo dall'Albania. In Italia e in Molise c'è ancora molto da fare per raggiungere degli obiettivi concreti e Musacchio ha sottolineato come forse non tutti remino verso la stessa direzione. Io penso che si debbano fare leggi molto più efficaci. Una delle idee, proprio questa nostra lotta alla corruzione, è decentralizzare la lotta alla corruzione, non accentrarla con un'autorità unica come quella che abbiamo in Italia. Quindi modificare molti articoli del codice penale, rendere le pene effettive. Chiara le parole di Musacchio che lasciano intendere come c'è bisogno di far sì che la protesta sollevata dal Corea debba venire supportata dalle istituzioni affinché possa diventare un'effettiva metodologia di contrasto per combattere la corruzione in regione e in Italia. E si svolta anche a Campomarino Lido la 22esima edizione di Puliamo il Mondo, la manifestazione organizzata da Lega Ambiente con la collaborazione di Anci e con il patrocino del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. I protagonisti di questa giornata, assieme a diversi volontari della protezione civile di Campomarino e ai rappresentanti dell'amministrazione comunale, sono stati gli studenti di seconda media dell'Istituto Carriero, i quali hanno partecipato con entusiasmo alla giornata ecologica che ha previsto la pulizia di un tratto di spiaggia del comune basso molisano. E si sono riuniti a Casa Calenda i promotori del progetto Clean Economy Molise, obiettivo dell'incontro quello di rilanciare la filiera agroalimentare e ridare speranza al territorio dell'entroterra molisano. Vediamo. Si sono riuniti a Casa Calenda i promotori del progetto Clean Economy Molise con l'obiettivo di rilanciare la crescita economica del territorio attraverso un patto di sviluppo della filiera agroalimentare. La Clean Economy può essere il volano, il primo passo per invertire quella che ha una tendenza di recessione che dura da decenni di questa regione, comporta un sviluppo qualitativo con la partecipazione diretta ovviamente dai produttori ma anche dai cittadini e in primo luogo delle istituzioni che devono essere i promotori di uno sviluppo di questa regione. Un nuovo modello è quello della Clean Economy che prevede intese di partenariato e cooperazione sul territorio mettendo in rete le aziende e che parte dall'esigenza di tutela dell'ambiente per inseguire uno sviluppo sostenibile. Bisogna concentrarsi su alcune filiere di produzione e la differenza fondamentale è che poi ci deve essere una partecipazione diretta sia dei produttori che dei cittadini perché questo è quello che può garantire un nuovo sviluppo qualitativo altrimenti noi saremo alla solita storia che ripetiamo da decenni e che non ha portato da nessuna parte come evidente. All'incontro ha preso parte anche il sindaco di Casa Calenda che vede nella Clean Economy un'ultima chance di salvezza per i territori dell'entroterra molisano. Rappresenta forse l'ultimo grido d'allarme dei cittadini delle aree disagiate verso quello che potrebbe essere lo sviluppo futuro. È inutile pensare di poter rimanere in un'area interna se tutto ruota contro, tutto rema contro. Allora questa probabilmente, il mettere in rete i cittadini con le istituzioni con le scelte strategiche nuove potrebbe essere un punto di rilancio per le aree interne, per i cittadini. Dunque a Casa Calenda è stato siglato il protocollo per rilanciare la filiera produttiva agroalimentare attraverso quel patto previsto dal contratto di sviluppo e disciplinato dal mese del settembre 2010 e che ora finalmente prenderà il via. E questo era il nostro ultimo servizio vi lascio alle previsioni del tempo grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV Il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso Previsioni del tempo per lunedì 29 settembre Generali condizioni di stabilità e bel tempo prevalente sul Molise sempre ben protette da un campo di alta pressione Cielo quindi sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata Ventilazione debole di direzione variabile a regime di brezza con mari generalmente poco mossi Temperature in lieve calo nei valori minimi In lieve rialzo nei massimi Vediamole nel dettaglio Campobasso minima 12 massima 22 gradi Isernia minima 11 massima 22 gradi Termoli minima 17 massima 22 gradi Il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso Il meteo è stato offerto da